Musica Buona domenica e bentrovati al consueto riepilogo delle notizie più importanti della settimana. Lunedì 4 luglio disarticolata un'organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di migranti. La polizia di Stato è seguito 23 dei 38 fermi emessi alla procura distrettuale di Palermo direzione distrettuale antimafia nei confronti di altrettanti indagati ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, all'esercizio abusivo delle attività di intermediazione finanziaria nonché di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti tutti aggravati dal carattere transnazionale del sodalizio criminoso. Nel corso delle indagini svolte alle squadre mobili di Palermo ed Agrigento e dal servizio centrale operativo è stata ricostruita, grazie ad un collaboratore di giustizia, la struttura organizzativa di un pericoloso network criminale e sono stati individuati ingenti flussi di denaro, provento del traffico di migranti. È stata individuata la centrale delle transazioni finanziarie effettuate tramite Avala in un esercizio commerciale di Roma dove lo scorso 13 giugno sono stati sequestrati 526 mila euro e 25 mila dollari in contanti oltre ad un libro mastro riportante nominativi di cittadini stranieri e di utenze di riferimento. Le indagini hanno permesso di evidenziare diverse modalità utilizzate al sodalizio per far arrivare i migranti sul territorio nazionale non solo via mare ma anche tramite falsi ricongiungimenti familiari non supportato ancora da prova il traffico di organi. C'è la dichiarazione di atta che è una dichiarazione del relato peraltro e pertanto in questo momento difficilmente riscontrabile. Sono indicazioni che lui dichiara di avere ricevuto ma che naturalmente allo Stato non possono essere confermate da alcun dato concreto anche in considerazione del fatto che questa attività ove venisse svolta, era stata svolta e veniva svolta appunto in territorio libico o nel corso del percorso dalla zona subsahariana sino alla Libia. E ancora emergenza rifiuti in Sicilia, al via la prima spedizione in una cementeria bulgara. E ancora emergenza rifiuti in Sicilia, adesso l'ipotesi di conferire l'immondizia all'estero sembra diventare realtà. La più grande discarica al momento in attività nell'isola, quella di Lentini, Trapani sperimenterà in settimana l'invio di 10.000 tonnellate ad una cementeria di Verna, grande centro della Bulgaria che si affaccia sul Mar Nero. Tutto ciò mentre il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, cerca contatti con il Nord Africa. Nei giorni scorsi un'altra discarica, quella di Trapani, ha pubblicato un bando europeo per l'invio transfrontaliero dei rifiuti. I gestori privati delle discariche, insomma, si stanno muovendo perché a questo ritmo gli impianti a breve saranno saturi. Nel fine settimana, inoltre, si è tenuta una riunione dinanzi al prefetto di Trapani, presenti anche i sindaci dei 30 comuni che attualmente scaricano nell'impianto di Borranea. I primi cittadini hanno denunciato le gravi condizioni sanitario-ambientali nella gran parte degli agglomerati urbani delle città del Trapanese, le cui strade rappresentano discariche a cielo aperto. Inoltre, come documentato dal sindaco di Trapani, la discarica non è nelle condizioni logistiche di poter reggere il conferimento di rifiuti e dunque occorre individuare immediate soluzioni e siti alternativi anche in deroga e con i poteri del commissario regionale. Sconti per i superbravi e per i fuorisede, l'Università di Palermo vara la rivoluzione delle tasse, stangata invece per i più ricchi. L'Università di Palermo vara la rivoluzione delle tasse che favorisce i più poveri a discapito dei più ricchi. Infatti, il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, presieduto dal Rettore Fabrizio Micari, ha deciso di aumentare di circa 500 euro le tasse perché ha un reddito di sé superiore a 100.000 euro, ma si è anche optato per l'esenzione totale per i 6.000 studenti con un reddito inferiore a 19.000 euro l'anno, ai quali si chiedeva di pagare il contributo di Ateneo pari a 201 euro. Le tasse comunque aumenteranno per i redditi superiori a 500.000 euro, restando pur sempre tra le più basse in Italia. Da questo piano, l'Università incasserà un totale di 38,5 milioni, ben 2,5 milioni in più rispetto all'anno scorso. Con questi soldi, dice l'Erettore Micari, garantiremo il diritto allo studio agli iscritti a basso reddito e la maggior parte dell'incasso verrà destinato ai servizi per gli studenti, spazi ma anche attività di tutoraggio per chi rimane più indietro. Tra le novità ci sono gli sconti per le famiglie più numerose, per gli studenti fuori sede ma anche per i superbravi, ovvero coloro che ottengono voti alti mantenendosi al passo con gli esami. Martedì 5 luglio, Corte dei Conti, rendiconto generale della regione siciliana per l'esercizio finanziario del 2015. Riunione attesissima della Corte dei Conti stamattina a Palermo per la decisione relativa al giudizio di parifica del rendiconto generale della regione siciliana per l'esercizio finanziario del 2015. In udienza pubblica presenti il Presidente della Regione, Rosario Crocetta, l'assessore all'economia Alessandro Baccei e il Presidente dell'Ars Giovanni Ardizzone, oltre alle più alte cariche istituzionali. I dati oggi sembrano più positivi del passato. In base ai conti fatti da Baccei e dai suoi uffici, infatti la Sicilia a fine 2014 aveva 2 miliardi di euro di disavanzo, oggi invece ci sono 636 milioni di avanzo. Uno dei dati emersi nel corso della riunione è che entro il 2020 andranno in pensione quasi 4.500 regionali. Una bella cura dimagrante, favorita dalle norme sui prepensionamenti previste in finanziaria. Buone notizie anche dalle entrate, cresciute di oltre 4 miliardi. Sono cresciute di poco le spese correnti e di circa mezzo miliardo quelle per il rimborso di mutui e finanziamenti. Quasi dimezzato invece il patrimonio. Il presidente delle sezioni riunite della Corte dei Conti, Maurizio Graffeo, ha parlato di epocale ripulitura dei conti. Adesso dunque sono più attendibili, ma il monito perentorio resta sempre lo stesso. Non si torni più ai vizi del passato. Confermato il G7 a Taormina, il premier Matteo Renzi ha ufficializzato le date il 26 ed il 27 maggio del prossimo anno. Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha confermato che il G7 si svolgerà a Taormina il 26 ed il 27 maggio del prossimo anno. Dal teatro greco, ha detto in direzione del PD, cercheremo di lanciare i volori della nostra cultura come risposta anche agli estremismi, insieme al nuovo presidente, o io spero alla nuova presidente degli Stati Uniti, e ai paesi del G7. E' una bella notizia, non soltanto per la nostra splendida città, ma per tutta la Sicilia. Così il sindaco di Taormina, Eligio Giardina, sull'ufficializzazione da parte del premier dello svolgimento del G7. Noi siamo pronti, avevo parlato nei giorni scorsi col presidente Renzi e il ministro dell'interno Angelino Alfano, aggiunge il sindaco, e aspettavamo con fiducia la data ufficiale. Noi abbiamo le idee chiare, un progetto definito, ma abbiamo bisogno di accelerare i lavori su tre strutture in tempi irrapidi, perché maggio per la burocrazia è dietro l'angolo. Il piano del sindaco di Taormina prevede la ristrutturazione della vecchia scuola convitto alberghiera per realizzarvi un centro operativo dei servizi per il G7, la realizzazione di una pista per l'atterraggio di elicotteri in un terreno di proprietà del comune e la ristrutturazione del Palazzo dei Congressi. L'ASP di Palermo attiva la Adipat, un nuovo sistema informatizzato di dimissioni protette e cure domiciliari. Si chiama Adipat ed è l'ultima frontiera dell'informatizzazione dei servizi dell'ASP di Palermo. Dopo il medico online, l'esenzione con un click MyView, refertazione di immagini radiografiche digitalizzate inviate attraverso internet al paziente ed il referto online degli esami di laboratorio, adesso la più grande azienda sanitaria siciliana informatizza tutto il sistema di dimissioni protette, cure domiciliari e residenziali. Dopo una fase propedeutica durata un anno, nel corso del quale è stato attuato lo sviluppo ottimale del software e si è provveduto alla formazione di dirigenti ed operatori, il nuovo corso delle cure domiciliari è partito ufficialmente oggi. Sono 200 i tablet in dotazione, tutti collegati in rete tra loro. I vantaggi per gli utenti saranno evidenti, ha spiegato il direttore generale dell'ASP Antonio Candela. Ci sarà una chiara riduzione dei tempi di attesa di presa in carico del paziente nel passaggio ospedale territorio, e cioè dalle dimissioni all'assistenza domiciliare. Il nuovo sistema consentirà inoltre di inserire nel fascicolo elettronico di ogni utente interessato copia della documentazione clinica. Sarà anche possibile inserire fotografie scattate a letto dei pazienti con possibilità di teleconsulto con uno specialista, ad esempio nelle lesioni da decubito o distomie. L'informatizzazione dell'Adi consentirà infine di ridurre il rischio clinico domiciliare. Ogni operatore sarà infatti nelle condizioni di conoscere la storia clinica del paziente e di accedere alle informazioni utili all'assistenza. Mercoledì 6 luglio, la mafia negli appalti di Expo 2015, 11 arresti a Milano per associazione a delinquere semplice, con l'aggravante di aver agevolato Cosa Nostra. In manette anche un avvocato, ex presidente della Camera Penale di Caltanissetta. Associazione per delinquere finalizzata all'emissione di fatture false, appropriazione in debita, reati fiscali e tributari al riciclaggio, con l'aggravante di avere favorito la famiglia mafiosa di Pietra Persia nell'Ennese. Le mani di Cosa Nostra negli appalti per Expo Milano 2015. È quanto ipotizza la procura di Milano che questa mattina ha disposto l'esecuzione di 11 arresti per una serie di appalti ed affari legati ai padiglioni dell'Expo. La mafia non si era infiltrata nei padiglioni Sicilia, ma nella realizzazione dei padiglioni Palazzo Congressi, Auditorium, Francia, Qatar e Nuova Guinea e nella realizzazione del padiglione della Birra Poretti. Secondo l'indagine milanese, ciò sarebbe avvenuto attraverso il consorzio cooperative Dominus Scarle. Dominus è un consorzio da 20 milioni di euro di appalti, 18 dei quali derivano dai rapporti con Nolostend SPA, società controllata da Fiera Milano nella cui compagine societaria al momento non risultano esserci indagati. Fra gli arrestati con l'accusa di riciclaggio c'è anche l'avvocato nisseno Danilo Tipo che fino a pochi mesi fa era il presidente della Camera Penale di Caltanissetta, avvocato difensore in molti processi di primo piano come quello per la strage di Capaci e già assessore comunale in una giunta di centrodestra. Personaggi chiave di questa inchiesta sarebbero Giuseppe Nastasi e Liborio Pace, amministratori del consorzio, arrestati questa mattina. L'avvocato Tipo finisce nell'inchiesta per un trasporto di denaro da nord a sud che avviene proprio durante una perquisizione disposta nella fase preliminare delle indagini, ma per lui le accuse sono meno gravi, tanto che il GIP ha disposto solo gli arresti domiciliari. Frontex addio, l'Unione Europea si dota di una propria guardia costiera e di frontiera che da settembre sarà operativa per affrontare le mille emergenze legate ai flussi migratori. La guardia costiera è finalmente europea, è finalmente un meccanismo di sintesi e di controllo condiviso, è una cabina di regia con un termine che sta molto a cuore a tanti, che sovrintende e coordina le operazioni di intervento in emergenza, e purtroppo questa emergenza noi la conosciamo bene e la viviamo ormai tutti i giorni, rispetto alla problematica della immigrazione legata appunto al controllo e alle operazioni che si svolgono lungo tutta la frontiera europea. Noi siamo coinvolti in prima persona ed è il nostro primario interesse, lei ha detto bene, finalmente, e finalmente lo diciamo anche noi, perché è tanto troppo tempo che si discute sull'opportunità prima di tutto di istituire questo organismo. Io ricordo che la proposta della Commissione è datata dicembre 2015, finalmente arriviamo, e per i tempi europei devo dire anche velocemente, a un voto, quello del Parlamento, che sancirà la nascita di questo organismo, un organismo al quale concorreranno i 28 Stati dell'Unione Europea, perché la Guardia Europea che si compone e si comporrà da settembre di 1.500 unità non è altro che una sommatoria di 1.500 persone che vengono messe a disposizione dei singoli Stati. Oggi succede che i migranti arrivano sul suolo italiano e sulla base di questa Convenzione devono richiedere l'asilo e rimanere sul territorio italiano. Questo causa poi tutte le conseguenze che conosciamo in termini di problemi con il sistema dell'accoglienza, ma anche in termini di speculazione politica da parte di chi fa appunto sui migranti e sulla loro gestione intere campagne elettorali. Quello che chiediamo dal primo giorno all'interno delle istituzioni europee che venga revisionato questo regolamento di 2.03 per cui chi arriva sul suolo europeo faccia richiesta d'asilo in tutti gli Stati dell'Unione Europea e che venga appunto istituito un meccanismo di redistribuzione obbligatoria tra i 28 o i 27, visto che la Regione Unita sta uscendo stati. Scoperta a Partinico una maxipiantagione di cannabista ad individuarla in mezzo alla vegetazione un elicottero dei militari di trappeto. Si confondeva nella vegetazione di macchia mediterranea che costeggia con trada pollastra la piantagione di cannabis avvistata da un elicottero del nono elinucleo Carabinieri di Palermo. I carabinieri della stazione di trappeto a bordo dell'aeromobile hanno perlustrato la zona e scoperto la piantagione di canapa coltivata da Salvatore Spinato, 45enne, partinicese, già conosciuto alle forze dell'ordine nel terreno a Tigua, la sua abitazione. L'immediato controllo dell'area ha confermato i sospetti. Si trattava proprio di una piantagione di marijuana con arbusti alti circa un metro munita di impianto di irrigazione automatico. La zona umida e particolarmente ricca di acqua ha di fatto permesso una crescita rigogliosa delle piante che erano quasi pronte per essere tagliate e avviate al processo di essiccazione. La rigogliosità degli arbusti è stata favorita anche dalle specifiche conoscenze dell'agricoltore che aveva ben curato le piante per la fioritura. I carabinieri intervenuti subito dopo l'avvistamento hanno sorpreso l'uomo con le mani nel sacco ammettendo di essere il coltivatore diretto e non opponendo alcuna resistenza all'arresto. Le piante, complessivamente 185, erano occultate tra coltivazioni di susine e albicocche. Solo l'osservazione dall'alto ha consentito di individuarle. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Giovedì 7 luglio, operazione antimafia nell'Agrigentino, smantellato il clan di Menfi, otto fermi nella valle del Belice. Operazione antimafia tra Sciacca e Menfi, in provincia di Agrigento. Sono otto le persone fermate oggi dai carabinieri con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Farebbero parte della famiglia di Menfi, guidata da Vito Bucceri, di 44 anni, anche lui tra i fermati. L'operazione denominata Opunzia, dal nome di una pianta spinosa molto diffusa nella zona, ha ricostruito l'attività delle cosche nella valle del Belice, uno dei mandamenti strategici di Cosa Nostra al confine tra le province di Agrigento, Trapani e Palermo. Le indagini hanno avuto inizio nel maggio del 2014, portando oggi al fermo di Vito Bucceri, pellegrino, scirica, medico di base, uomo di fiducia di Leo Sutera, Tommaso Gulotta, Matteo Mistretta, Vito Riggio, Giuseppe Alesi, Cosimo Alesi e Domenico Friscia. In particolare sono emersi gli stretti contatti tra la famiglia di Menfi ed esponenti mafiosi di vertice come appunto Leo Sutera di Sambuca, detto il professore, indicato dagli inquirenti come il capo della provincia di Agrigento tra il 2010 e il 2012, il boss di Santa Margherita Belice, Pietro Campo e Domenico Friscia di Sciacca. I carabinieri hanno documentato incontri e riunioni che avvenivano all'interno di auto o in casolari di campagna per eludere le intercettazioni, oppure direttamente nello studio medico di Scirica. Bucceri si avvaleva di un collaudato e fedele numero di collaboratori in grado di costruire attorno un circuito relazionale che tentava di blindarlo, evitando la penetrazione investigativa. Emergenza rifiuti, l'assessore contraffatto a Roma ancora critica il governo dai deputati 5 Stelle. L'assessore all'energia, acqua e rifiuti, Vania Contrafatto, oggi a Roma, per l'incontro programmato al Ministero dell'Ambiente per la seconda verifica sullo stato di attuazione dell'accordo fra Stato e Regione che ha sbloccato la delibera sull'emergenza rifiuti. Tutti i passaggi della delibera obbligatori per la Sicilia sarebbero stati rispettati dagli uffici, ma la Giunta non ha ancora approvato la riforma. Intanto, nuovo attacco dei deputati 5 Stelle al governo Crocetta. La mappa degli inceneritori di cui parlavano attraverso la stampa ai vertici dell'assessorato una bufalo quasi. La prova, il fatto che l'assessore l'abbia definita espressione personale del dirigente non condivisa nemmeno da Crocetta. Ciò dimostra, dice Giampiero Trizzino, che siamo nelle mani di una classe dirigente incapace persino di comunicare al suo interno. Il passaggio in commissione continua dimostra come tematiche di fondamentale importanza come le emergenze a rifiuti vengano trattate con imperdonabile sufficienza. Non è accettabile che il dirigente e l'assessore ai cui relativi uffici sono separati da un muro nemmeno si parlino. Sulla questione inceneritori il Movimento 5 Stelle è polemiche su tutta la linea. Che sia la strada sbagliata lo dicono da sempre, tra l'altro si tratta di una soluzione a media scadenza per realizzare questi impianti infatti ci vogliono un paio di anni. ZTL a Palermo dopo il sì del CGA si ripartirà il 5 settembre prossimo. La zona traffico limitato a Palermo partirà entro il 5 settembre prossimo. L'assessore alla mobilità Giusto Catania annuncia che i divieti torneranno in vigore una decina di giorni prima dell'inizio delle scuole e visto che quest'anno si tornerà tra i banchi il 14 settembre l'idea è quella di partire in una data compresa tra il primo ed il 5 settembre così da dare qualche giorno di tempo ai cittadini per familiarizzare con le nuove regole. Ma cosa cambierà esattamente? Il provvedimento nella sostanza non dovrebbe essere molto diverso stesso perimetro stessi costi stesse modalità di accesso più che altro sarà più adeguatamente motivato viste le polemiche che nei mesi scorsi lo hanno accompagnato. Chi ha già il pass non dovrà dunque fare nulla la data di scadenza verrà automaticamente prorogata. Tutti gli altri invece dovranno acquistarlo o andando di persona agli sportelli AMAT di Via Giussi e Via Borrelli oppure online. Il sistema di vendita telematica sarà rafforzato permettendo da subito l'acquisto con carta di credito. Un'altra certezza è che la ZTL sarà ampia cioè non limitata al solo centro storico ma estesa fino a Viano Tarbartolo via Dante e via Crispi che costituiranno il confine e resteranno percorribili. Le telecamere che sorvegliano i dieci varchi potrebbero non essere accese immediatamente. Dopo lo stop del Tar l'amministrazione infatti ha congelato la firma del contratto con la ditta che deve occuparsi della manutenzione. Se nulla cambierà i divieti riguarderanno le macchine fino a Euro 2 cioè quelle immatricolate dopo il 1999. I residenti potranno ottenere il tagliando anche con autovetture più vecchie ma pagando 90 euro. Per tutti gli altri il prezzo da versare sarà di 100 euro e darà diritto ad un permesso annuale. La ZTL sarà in vigore dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.30 e dalle 15.30 alle 20. Il sabato solo dalle 8 alle 13. Venerdì 8 luglio rifiuti dopo le contestazioni di Roma la situazione è al limite le discariche sono quasi al collasso. Il Ministero dell'Ambiente contesta ai funzionari regionali la delibera con la quale si autorizzavano i comuni singolarmente a conferire i rifiuti fuori dal territorio regionale un'autorizzazione che secondo gli accordi doveva essere accentrata a livello regionale così come si contestano ritardi e modifiche alla riforma del settore a rischio l'intesa in un momento in cui la situazione sta per esplodere. Le discariche sono al limite quella di Tirreno Ambiente a Lentini la più grande attrezzata della Sicilia attualmente sta lavorando a pieno regime ma anche ieri 50 autocompattatori sono rimasti fuori dalla discarica in fila e solo oggi hanno potuto scaricare lasciando di conseguenza in fila quelli che arrivano in giornata. I disagi al momento sono contenuti ma la situazione può solo peggiorare. Anche Bellolampo è al limite l'impianto TMB progettato per 750 tonnellate attualmente ne lavora 950 per evitare la crisi dovrebbe riceverne 1.500 lavora al limite anche Trapani ci vorranno almeno un paio di mesi per riaprire Siculiana. Maxisbarco di migranti al porto di Palermo 1.038 persone tra cui oltre 200 minori non accompagnati fermato anche un presunto scafista. La polizia di stato e la guardia di finanza hanno individuato e sottoposto a fermo un cittadino senegalese ritenuto lo scafista di un'imbarcazione che ha trasbordato i migranti in pieno mediterraneo a largo della Libia si chiama Seke Hassan ed ha soltanto 22 anni le informazioni raccolte da numerosi testimoni hanno consentito di ricostruire nel dettaglio le modalità del viaggio iniziato delineando uno spaccato purtroppo non inedito di soprusi e privazioni i migranti hanno raccontato le fasi dell'intero viaggio ed hanno indicato lo scafista chiarendone il ruolo il fermato è stato condotto presso la casa circondariale Pagliarelli intanto ieri è giunta al porto di Palermo la nave norvegese CM Pilot con a bordo 1038 migranti tra cui 12 donne incinte e più di 200 minori non accompagnati in una nota il comune di Palermo fa sapere che l'assessorato per le politiche di cittadinanza grazie ad una importante collaborazione con Prefettura Croce Rossa Caritas e Protezione Civile Volontaria ha provveduto affinché tutti i minori stranieri non accompagnati venissero alloggiati in strutture supportate dai volontari delle stesse associazioni tutto questo in attesa che si perfezionino le iscrizioni all'albo regionale di nuove strutture per le quali l'ASPE e i comuni competenti hanno già i pareri il sindaco Orlando e l'assessore Agnese Ciulla hanno dichiarato di essere riusciti a risolvere una situazione che rischiava di essere gravissima ma resta intatta una insostenibile fragilità del sistema che continua a basarsi sulla buona volontà di comuni e prefetture sul sostegno del privato sociale sul lavoro di singoli volontari un sistema nel quale spiccano il grave silenzio da parte della regione e la totale assenza di un piano nazionale l'arcivescovo Monsignor Corrado Lorefici ha presentato il programma religioso del 392esimo festino di Santa Rosalia patrona della città di Palermo è il primo è tutto quello che è primo è sempre qualche cosa che coinvolge anche perché attorno al festino di di Palermo c'è una grande attesa e è conosciuta la fama di questo festino il calore dei palermitani l'amore per questa donna meravigliosa e quindi certamente ne partecipo anch'io con grande emozione e grande attesa ma soprattutto perché possa essere un momento conviviale per la nostra città perché sia un momento vero di di festa non di alienazione ma di una presa di corresponsabilità di una città che deve attorno a questa figura così meravigliosa ritornare ad essere sempre di più una città accogliente vera autentica nella sua dimensione umana le pesti sono tante così come tanti sono però quelli che si vogliono coinvolgere ci sono tante belle potenzialità noi abbiamo un monte pellegrino che è stato devastato noi abbiamo una città che ha bisogno di dare pane da mangiare a chi non ha lavoro di dare casa a chi rischia ancora di essere fuori ma abbiamo anche una città che ha bisogno di ritrovare un sussulto di legalità perché dietro le vere esigenze umane non si nascondono mai mai secondi fini tanto meno fini che possono avere anche una portata malavitosa è tutto grazie per l'attenzione ancora buona domenica a Grazie a tutti.